Lo slogan We Care, scelto dall'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara per la Notte dei Ricercatori 2024, che quest'anno si terrà il 27 settembre, è un invito a prendersi cura degli altri e a ritrovare quella capacità di empatia che sembra ormai socialmente perduta e che insieme all'assenza di pathos rappresenta un preoccupante cambiamento antropologico. A riferirlo è il rettore dell'Ateneo d'Annunziano, il professor Liborio Stuppia, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento che consentirà all'Università di aprirsi alla cittadinanza per presentare progetti, ricerche e iniziative con un focus sulle nuove tecnologie e sull'intelligenza artificiale, sempre al servizio del prossimo, nello spirito del We Care. Fondamentalmente cercheremo di conservare un format che è stato vincente, quindi sempre questo tentativo di coniugare la divulgazione con lo spettacolo, con la cultura, quindi l'idea è comunque che tutto il pomeriggio, tutta la giornata anche ci saranno degli eventi sparsi per il campus per poi convogliare tutti quanti sul palco centrale dove ci saranno gli eventi serali e la grande festa serale. Fino adesso ha funzionato bene così e continueremo in questo modo. Tra le altre novità devo dire che quest'anno ci sarà più una settimana della ricerca che una notte perché quella stessa settimana faremo un'altra bella cosa che è il graduation day, ossia il giorno della festa dei laureati che è una tradizione che aveva intrapreso il mio predecessore che poi fu interrotta per il covid e invece riconcevano a fare anche la festa dei laureati che sarà una cosa molto bella. Ancora riservo sugli ospiti del 27 settembre ma il comitato organizzatore è già al lavoro per garantire risonanza mediatica all'evento, come spiega la professoressa Elisabetta Di Mauro, responsabile del gruppo organizzatore della Notte dei Ricercatori. Le novità innanzitutto è la nuova tematica. Quest'anno è una tematica legata molto alla solidarietà e quindi abbraccerà diversi campi. L'evento si svolgerà innanzitutto nel campus di Chietiscalo così come nelle altre precedenti edizioni. È stato abbastanza un successo un incontro con i non addetti ai lavori e tutto il pubblico che magari è curioso di vedere cosa facciamo. Com'è cambiata negli anni La Notte dei Ricercatori? È cambiata soprattutto nelle persone che vogliono seguire questo evento che è importante da far conoscere alla cittadinanza perché ovviamente si offrono spunti sulla ricerca e sul futuro quindi è importante che i cittadini vengano messi al corrente su quello che viene fatto per loro. Grazie.